Non lo so, guardi, io non li conosco, cioè... Non so che però... Eh sì, devo andare, mi spiazza. Io non commento. Per carità. La notizia ha colpito chiunque incontriamo oggi a Marano. Davvero non se l'aspettava nessuno. I vicini dicevano proprio che non se l'aspettavano, non facevano pensare le persone. Ma nessuno lo diceva, che sappia io, che senta, perché poco che sanno nessuno diceva una cosa del genere. Subito si umiliava, che fu se sta successo, che era, si è uccisa, però... Adesso sì, proprio... Certo che se fosse stato il marito, sarebbe... Sono cose, non capisco più niente. Sono notizie che ti lasciano sempre sbalordito perché dici, ma quel signore là, quella signora là, l'ho vista l'altra settimana o cosa, mi sembrava tranquillo. E dopo si sentono queste cose qua. Qualcuno tenta di razionalizzare e dare una spiegazione. Sei talmente tirato, tra conti, cose da pagare, che la gente arriva a un certo punto che perde la testa, cioè non riesce più a stare nella realtà. E quindi arriva il gesto estremo, secondo me, quasi inconsapevolmente. A Marano una storia così, strana. A Marano, roba del genere, a mia memoria, non l'ho mai vista. È una tragedia, ma non saprei dirle più di così, nel senso, purtroppo può capitare qui come in altri posti. Non è che ci tocca di più, ci tocca di meno, ci tocca comunque. Un pensiero poi viene rivolto alle figlie della coppia. Le condolianze per i familiari più che altro, perché è una cosa, sì, non ti aspetteresti mai. Ed è veramente un problema grande, sinceramente, le figlie sì. E non saprei cosa fare, io spero che ci siano dei parenti, qualcuno che possa aiutarli in qualche maniera.